Allora eccoci con Valentino Cucè, match winner della partita, di una partita incredibile, lo cambolesca nel finale, partiamo proprio dal finale di gara, ecco, gol alla fine tuo, match winner, ultimo secondo, emozioni? Diciamo che è stato un finale un po' da tre risultati, guarda usci qualsiasi risultato e diciamo che abbiamo trovato il gol grazie a un ripallo fondamentalmente finito a metà al campo che poi ha fatto sì che insomma il pallone mi passasse avanti e poi calciare, quindi è stata proprio una cosa, una versione del secondo, ecco, cioè, la giocata del campione te lo dico io, era tutta la partita, era tutta la partita che ci hai provato, sempre vicino al palo, alla fine hai preso la parte giusta del palo, ecco, senti, tornando un po' alla partita, partita combattuta, equilibrata, un po' maschia, non trovate quei spazi forse giusti, alla fine è risolta da te, cosa diciamo che è un commento? Il campo un po' pesante sicuramente, il campo nuovo, quindi abbastanza pesante, erba alta, poi diciamo che le temperature fino al giorno d'oggi non è che ci aiutano molto, è vero, e loro hanno una squadra molto fisica, molto ma molto fisica, e hanno portato quel match proprio in ambito fisico, ecco, e noi abbiamo fatto la nostra partita girando il pallone più veloce possibile, ripetendo insomma che il campo non ce lo consentiva, certo, e poi niente, poi da uscire qualsiasi risultato ci ha detto bene, con il fortuna è arrivato alla vittoria, senti, ultima domanda te la faccio un po' sulla squadra, due partite, due vittorie, partiti benissimo, li vedo tutti bene uniti, un bel gruppo, dove può arrivare? No, è quello non lo diciamo, pensiamo più che altro che hai visto di buono fino adesso in questa squadra. Ma diciamo è un gruppo fantastico che si è subito unito, fin dal primo giorno siamo andati in ritiro, un ritiro insomma, sono generato il C2, un ritiro così è difficile insomma da trovare, è un gruppo veramente fantastico, tutti i giovani con qualche elemento insomma di esperienza però che comunque ha fatto sì che il gruppo si amalgamasse, diciamo che è un gruppo molto felice che sicuramente può far bene, questa come la scorsa settimana secondo me è una vittoria proprio da squadra, queste sono partite che veramente, cioè il gruppo è proprio l'unione che fa la forza, cioè non mollare mai, aiutarsi fino all'ultima goccia di sudore ma metterci tutto l'impegno possibile e insomma poi i tre punti arrivano sempre. Si è visto anche dall'abbraccio finale di tutti, senti ultimissima, vuoi dedicare il gol a qualcuno? Te lo ritieni per te? Che ne sono? A mio fratello che comunque è il secondo allenatore di questa nuova squadra e a Daniele è un mio caro collega che gli avevo promesso. Grazie ancora, grazie ancora, cuci alla prossima. Grazie mille.